offerta imperdibile oggi è uscita questa offerta offerta imperdibile sky tv più calcio vi spiego bene tutto a 14 euro e 90 al mese è un'offerta che cosa molto di più vi costa soltanto 9 euro di attivazione una volta solo il prezzo resta fisso per 18 mesi adesso io vado un attimino su facebook vediamo se qualcuno mi mi sta se qualcuno mi sta scrivendo qualcosa allora che sono da telefonino ok allora da cosa comprende l'offerta sky tv l'offerta sky tv comprende eccola quale si chiama sky smart avete l'obbligo di stare 18 mesi se andate via prima vi fanno pagare una il rimborso del rimborso degli sconti che avete di cui avete su fruito era è una formula che usano moltissimo lo sono anche altre compagnie praticamente la sky smart è questo e poi c'è lo sky open lo sconto è meno di 10 euro vedete 14 10 euro è qualcosa e vi fanno rimborsare questo importo qua di cui avete goduto ma stiamo parlando dell'ordine 70 euro e di rimborso cosa comprende l'offerta sky sky tv più lo sport comprende serie tv show documentari news hd sky go quindi potete vederla anche su un altro computer ok questa qua se invece volete netflix è possibile anche avere netflix fatemi sapere quali sono le vostre richieste se volete questo è il pacchetto ve lo faccio rivedere il pacchetto sky tv calcio ok vi costa 9 euro l'attivazione con la fibra dovete avere la fibra e senza parabola questo è quindi 9 euro con la fibra chi invece non è raggiunto dalla fibra a vuole la parabola deve pagare 49 euro chi invece ha già la parabola e lo vuole ricevere tramite la parabola paga l'attivazione 29 euro mi sembra di avervi detto tutto quanto mi servono i vostri documenti d'identità fronte retro valido la vostra tessera sanitaria fronte retro la vostra e mail il vostro numero cellulare e il vostro iban e nel giro di qualche giorno fatemi sapere se il decoder lo volete qui da me o se lo volete a casa vostra io vi spedisco al decoder a casa vostra oppure ve lo faccio recapitare qua voi venite a prenderlo l'offerta rivolta per i cagliari ma quasi tutte le squadre serie b sky ha fatto questa offerta in più sempre tramite sky vi faccio vedere una cosa praticamente vi da sky vi da questa scatola vi da il telecomando e questo vi da questa scatoletta qua questo è il nuovo decoder sky quindi vi occupa anche pochissimo spazio potete vedervi tutti i canali del digitale terrestre ok va collegato il wifi oppure tramite questa porta qua tramite questa porta va collegato al modem ma se avete il modem un'altra stanza quel wifi va benissimo non ci sono i blogi non ci sono fregature mi raccomando aspetto le tue richieste campionato inizia il 13 agosto con cagliari como alle 20 45 mi raccomando se vuoi vedere le partite dai cagliari magari quelle trasferta quelle in casa vai e teleguardi subito sky tv ciao da andrea di selloso mandami il tuo documento d'identità fronte retro valido la tua tessera sanitaria anche via email ti scrivo la mele qua nei commenti oppure passa da me il negozio in piazza di esprivel 8 a cagliari penso tutto tutta la settimana prima di ferragosto di essere aperto almeno la mattina ma probabilmente anche di pomeriggio oggi pomeriggio vabbè oggi praticamente è arrivata questa offerta di sky e quindi sono aperto stavo facendo altre altre cose ciao da andrea di selloso ciao 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 raffaele ciao e fisio ciao alberto vediamo se ci sono domande no non ci sono domande vi aggiungo la mail così ciao da andrea ciao ciao ciao